Nei clienti si vede e si nota la voglia di uscire dopo tanto tempo di chiusura forzata nelle proprie azioni, quindi anche qua da noi a Teglio, come in tutte le altre località della Valtellina della provincia di Sondrio, sicuramente questi ultimi tre weekend sono stati presi d'assalto dai turisti. Boom di prenotazioni negli alberghi e nei ristoranti delle località turistiche della provincia di Sondrio, ma solo nel fine settimana. Le belle giornate aiutano gli imprenditori del settore messi in ginocchio dall'emergenza sanitaria ed ora per risollevarsi chiedono di lavorare a pieno regime, sia pranzo sia cena, ottenere ristori adeguati alle reali perdite, ma soprattutto avere prospettive o meglio certezze a lungo termine che consentano di pianificare il lavoro con tranquillità. Queste riaperture devono essere di buon auspicio, ma sicuramente non ci salvano. Per poter riprendere con un ritmo regolare sicuramente bisogna poter aprire tutto il giorno, perché chiaramente non basta solo una mezza giornata. Bisogna che la gente possa tornare liberamente a circolare e questo chiaramente dipende tutto dai vaccini che speriamo che in tempi brevi arrivino, che saranno quelli che certamente potranno farsi in qualche modo tornare alla normalità. Le nostre attività chiaramente hanno bisogno di tanti auspicati ristori e aiuti perché, come dicevo prima, siamo usciti da un anno di sofferenza totale e le riaperture da sole sicuramente non potranno bastare per farci ritornare sui ritmi degli anni scorsi. Cosa può cambiare per voi con l'apertura serale? Pur lavorando anche bene nei fini settimana, ma i fini settimana con le chiusure serali non bastano a sostenere l'economia di un'azienda, anche perché le spese nelle aziende ci sono dal lunedì alla domenica sera. La speranza è che questi inizi di apertura siano il preludio per poter ritornare veramente a una situazione di normalità che tanto ci manca. Siamo pronti a vaccinarci per tutelare noi, le nostre famiglie, ma anche i clienti, precisa Fabio Valli, alla guida dei commercianti del tiranese e vicepresidente provinciale di Federalberghi. Pensiamo che sia necessario vaccinarsi, quindi l'augurio è che queste benedette vaccinazioni arrivino veramente al più presto per poter riprendere a lavorare in tutta tranquillità.